Sono Carlo Fugazza, ho iniziato la pratica del Karate Do nel 1968 sotto la guida del maestro Hiroshi Shirai. Shotokan definisce lo stile che pratichiamo. Sono Alessandro Cardinale, pratico Karate, lo insegno da più di 40 anni. Ho ottenuto il grado di Settimo Dan, sono stato allenatore della squadra nazionale. Sono Pasquale Acri, sono Settimo Dan, adesso sono allenatore della squadra nazionale di Catà, della Federazione Italiana Karate Tradizionale. Nella nostra palestra abbiamo allievi di tutte le età, dai 4 anni fino a oltre 80 anni. Attenzione, concentrazione, rispetto delle regole, rispetto degli altri. Questi sono i principi molto importanti che cerchiamo di trasmettere nell'insegnamento. Abbiamo corsi tutti i giorni della settimana, a intervallo pranzo, a pomeriggio, alla sera, corsi per amatori, corsi per agonisti. Da un anno a questa parte abbiamo deciso anche di tenere dei corsi online per i nostri allievi che ci vogliono seguire e abitano lontano. Se sei interessato, consulta la pagina karatemilano.it o vieni a trovarci in palestra.